Siamo sulla spiaggia dell'Impiccato a Furio dove nelle prime luci dell'alba abbiamo avuto una bellissima sorpresa. Sì, questa mattina tra le 5.30 e le 6 è arrivata una segnalazione da parte di un pescatore. Domenico Schiano che ringraziamo, quindi è una collaborazione. La tartaruga è in salita e speriamo che ci sia un po'. Stiamo aspettando la stazione zoologica per controllare che effettivamente ci sia un po'. Domenico, a te hai dato il primo avvistamento questa mattina della mamma tartaruga che scavava tra la sabbia? No, esattamente. Per essere precisi, chi è? Che ha avvistato la tartaruga è stata una signora che tutte le mattine passa per le spiagge con il suo cane e quindi ha da subito attivato qualche operatore sul posto. I primi ad essere intervenuti poi sono stati gli operatori ecologici del comune di Furio che hanno pensato subito di attivarmi perché ho sempre in pentola questi temi sociali che riguardano l'ambiente. Sì, tu fai parte della guarda ambientale zoofila. Sì, non solo, ma cerco comunque attraverso i miei video di sensibilizzare un po' tutti per l'ambiente circostante. Mi sono precipitato subito sul posto, ho visto questa immensa tartaruga grandissima che scavava, però da come ho potuto capire forse scavava semplicemente per apporre la sabbia sul buco precedente, quindi stava insabbiando le uova. Poi dopo circa un'ora se n'è andata piano piano e solo allora mi sono avvicinato nel momento in cui ha toccato il mare per andare via. È stato un video divertente per far capire anche un po' alle persone come bisogna approcciare. Soprattutto bisogna segnalare le autorità competenti, in questo caso il Regno di Nettuno, che fa tanto per la nostra isola per il monitoraggio soprattutto sulle spiagge della Caretta Caretta. È importante sapere che ci sono tanti operatori che però hanno bisogno comunque del nostro aiuto e in base al numero di telefono possiamo comunque contattarli per rendere un servizio migliore e per sensibilizzare di più anche noi, i cittadini, alla Caretta Caretta e all'ambiente circostante. Comandante Riccio, questa mattina sulla spiaggia del Impiccato di Forio abbiamo avuto una bellissima visita. Sì, ormai sono circa quattro anni che la Caretta Caretta viene a trovarci ed è uno spettacolo della natura. Noi come Guardia Costiera insieme all'Area Mania Protetti abbiamo il compito importante di proteggere questo meraviglioso spettacolo della natura. Stamattina la tartaruga è stata avvistata verso le 4.10, abbiamo anche dei filmati, che è stata vista di bocchettare le uova e quindi dovremmo aspettare circa 40 giorni per verificare poi l'assunzione. Forio è diventata ormai la casa di questo piccolo animale che ci venne a trovare ormai da quattro anni. Ed in via preventiva l'aria è stata appunto recintata con il supporto della Polizia Municipale in attesa dei veterinari del Tartal Point dell'Anton Dorn. Abbiamo provveduto quindi a recintare l'area, adesso stiamo aspettando i veterinari dell'Istituto Antondon per fare in modo che nessuno possa avvicinarsi alla vita. Ora procederemo all'installazione di un sensore che ci consentirà di monitorare l'andamento delle temperature durante l'intero periodo di sviluppo embrionale e stimare anche con buona approssimazione il momento della schiusa per poter essere poi in spiaggia e aiutare i piccoli a raggiungere in sicurezza il mare e permettere anche la fruizione pubblica della schiusa in collaborazione ovviamente con il personale dell'AMP e la Capitanina di Porto che sono partner del progetto Caretta in Vista, più ampio Life of Tartleness che sono poi gli attori principali sull'isola. È un momento importante perché ci consente anche di fare formazione sul campo degli operatori di Ischia, dell'AMP, che è importante avere un presidio attivo sull'isola nell'ottica di un aumento delle nidificazioni. Adesso inizia il periodo clou, è probabile che a luglio avremo altri eventi ed è importante sfruttare, fare il massimo di queste situazioni per formare personale sull'isola che possa intervenire nella migliore maniera possibile.